In questa sintesi visuale e visionaria insieme la presenza del pendolo, tutte le variabili possibili di oscillazione che all'interno del rapporto terra-cielo si possono costruire sia nei pensieri, sia nelle azioni, sia nella materia che evolve sia nel cambiamento delle stagioni, nel modo di rotazione e di rivoluzione comunque sempre distanze celeste e distanze terrestri che si intersecano all'infinito e che tutti noi eravamo lì, eravamo sia profondi sia terrestri sia celesti eravamo alti ed eravamo profondi, eravamo capovolti ed eravamo però verticali nella normale nostra verticalità, il nostro capovolgimento si speziava dentro sembravamo profondissimi, però eravamo altissimi simultaneamente insomma c'era questa duplicità che poi è sempre lo stesso simbolo che evolve che ha espresso lei, che ha espresso lei e abbiamo espresso tutti, la pura presenza del tavolo, insomma l'alto, eccetera il buio e la luce, il suo girare del visci, insomma tutti è un'altra variante che ti consente questa è la cosiddetta speculazione se noi adoperiamo la parola speculazione per indicare che cosa? le finanze? il mercato? lo speculismo grazie grazie